Berlusconi non fa giravolte, vuol battere la sinistra e dice io sono pronto in campo, se c'è un altro più capace di me di aggregare una coalizione che batta la sinistra io lo appoggio, si chiami Monti, si chiami Alfano, si chiami Andrea, più chiaro di così Bersani deve capire che Berlusconi è quello di sempre, quello che ha fermato la sinistra nel 94 e sempre o quasi sempre dopo.